Ciao a tutti, se il nostro fosse un paese davvero civile, il Presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe immediatamente recarsi in Parlamento per fornire spiegazioni su questo presunto caso di dossieraggio tirato fuori dal Corriere della Sera, tra l'altro con un articolo indecente a firma Sarzanini-Guerzoni, tratto mi stupisco soprattutto della Sarzanini che abbia scritto un articolo del genere, per fornire delle spiegazioni al Parlamento, dunque all'Italia intera, nel caso anche per smentire urbi e torbi le eventuali balle scritte dalle giornaliste sul Corriere della Sera. Ricapitoliamo due giorni fa e c'è quest'articolo. Influenza e opinionisti, ecco i putiniani d'Italia, con tanto di foto segnaletiche di questi pericolosissimi soggetti che hanno soltanto delle idee, condivisibili o meno, esprimono delle idee, combattono per delle questioni che loro ritengono utili, sono contrari all'invio di armi in Ucraina, sostengono narrazioni o comunque opinioni diverse dal pensiero dominante, dal lato dominante sui giornali e nella televisione o nella pubblica opinione, ma che vengono inserite appunto dalla Sarzanini e dalla Guerzoni che citano del materiale raccolto dai servizi segreti all'interno di una macchina che si attiva nei momenti chiave attaccando politici pro Kiev e sostenendo quelli della parte russa. Cioè se vi è una macchina, quindi evidentemente l'ipotesi è che facciano parte ognuno come i pezzi di una macchina, appunto di un'organizzazione quasi, vi sia un'organizzazione dietro questi putiniani d'Italia che mettono, come dire, in un certo senso allarmano i servizi segreti. Una rete complessa e variegata, la rete filo Putin è ormai una realtà ben radicata in Italia, scrivono le giornaliste sul Corriere della Sera, ripeto uno dei giornali più importanti in Italia, che allarma gli apparati di sicurezza perché tenta di orientare o peggio boigottare le scelte del governo, orientare la pubblica opinione, insomma quello che fanno i giornali tutti quanti, e boigottare le scelte del governo, cioè fanno opposizione, insomma, mamma mia che colpa incredibile, ma la cosa incredibile qual è? Perché io dico che dovrebbe intervenire Mario Draghi e comunque dovrebbero immediatamente fornire delle spiegazioni anche per tutelare il Copasir, i presidenti di Camera e Senato, la seconda e terza carica dello Stato, perché le giornaliste sul Corriere scrivono l'indagine avviata dal Copasir, il Copasir è il comitato che si occupa appunto di parlamentare, che si occupa come dire, di controllare che i servizi segreti si comportino bene, che agiscano all'interno della Costituzione. Ecco, l'indagine avviata dal Copasir è entrata nella fase cruciale, il materiale raccolto dall'intelligence individua i canali usati per la propaganda, propaganda portata avanti da queste persone con tanto di foto segnaletiche, gli influencer putiniani d'Italia, per cui tra l'altro un parlamentare, Orsini, cioè un parlamentare come Vito Petrocelli, giornalisti, io tra l'altro conosco Maurizio Vezzosi, insomma ogni tanto ci iscriviamo, lavora in Donbass e fa secondo me anche delle bellissime inchieste. Insomma, questo c'è scritto in questo articolo, che il Copasir si è attivato, l'indagine avviata dal Copasir, quindi ha avviato un'indagine, quindi evidentemente ha chiesto, secondo loro, ai servizi segreti di raccogliere del materiale, e questo tra l'altro credo che sia contro la legge, tant'è che Urso, ma anche la vice presidente del Copasir Dieni, hanno di fatto smentito ciò che c'è scritto sul Corriere della Sera, dicendo anche che questi nomi all'interno di questo presunto dossier li hanno letti sul Corriere della Sera. E dove sta la verità? Un'altra persona, che è prima persona seria, Gabriele, è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega servizi segreti, ha detto che i servizi segreti non hanno mai fatto attività di dossieraggio o stilato delle liste con i putiniani d'Italia, quindi qua qualcuno mente, sta mentendo il Copasir, mentono i servizi segreti, il governo deve intervenire, il presidente del Consiglio ha il dovere di intervenire, perché qui abbiamo a che fare con il Copasir. Ecco, meglio che intervengano presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati. Comunque abbiamo a che fare ipoteticamente con i servizi segreti che sono legati alla presidenza del Consiglio ministri, ma comunque il presidente del Consiglio dovrebbe anche parlare di una vicenda che riguarda il principale quotidiano italiano che tira in ballo servizi segreti rispetto a un dossier, appunto un materiale raccolto dai servizi che individua i canali usati per la propaganda, riguarda dei liberi cittadini che ad oggi non hanno compiuto nessun reato e sono sbattuti sulle pagine di questo giornale come membri di una macchina che si attiva nei momenti chiave, attaccando i politici pro Kiev, liberi cittadini, ripeto, che non hanno commesso reati, stanno soltanto pensando, hanno delle opinioni giuste, sbagliate, strampalate, perfette, contraddittori, opinioni, opinioni idee. Qui vogliono, come dire, sempre di più evitare che arriviamo a pensare. Forse il pensiero deve essere messo fuori legge, si ha paura che una contronarrazione costruisca una barriera, un ostacolo alla narrazione ufficiale che ci dice che l'Italia e l'Europa si stanno comportando egregiamente, che la strategia è perfetta sulle sanzioni, sull'invio dell'armi in Ucraina, che tutto sta funzionando come deve funzionare. Io ho idee diverse. Oltretutto, veramente, se leggete quest'articolo, il bombardamento di messaggi da parte di questi putiniani d'Italia antigovernativi e filo putiniani aumenta in corrispondenza dei passaggi politici decisivi. Che scandalo! Ovvero, quando il Parlamento sta per votare sull'invio di armi o meno a Kiev, coloro che sono contrari a questo invio comunicano, combattono politicamente o mediaticamente dicendo siamo contrari, attaccano il governo che vuole fare questa cosa, in concomitanza con i passaggi decisivi. Che cosa strana! Come se le campagne elettorali non si facciano in concomitanza con le elezioni, si debbano fare, o per loro, non lo so, tre anni prima di votare. Cioè, veramente un articolo scritto sul nulla e se hanno avuto delle notizie queste giornaliste rispetto a un possibile dossier contenente alcuni nomi di putiniani d'Italia facenti parte di una macchina che si muove, dovevano scriverlo in un altro modo, come di scandalo! I servizi segreti fanno dossier su cittadini che non hanno violato alcuna legge, che vergogna, no? Influencer opinionisti ecco i putiniani in Italia con le foto segnaletiche quasi avallando questa eventuale decisione e progetto portato avanti dai servizi segreti. Ripeto che non sappiamo se sia vero, perché il COPASI era smentito, Gabrielli ha smentito, qui qualcuno mente. Per questo il Presidente del Consiglio dovrebbe metterci la faccia, andare in Parlamento e dire assolutamente no, me ne assume responsabilità, non esiste nessun dossier, non esiste nessun materiale raccolto dai servizi, oltretutto ancora meno non esiste un'indagine avviata dal COPASIR utilizzando i servizi. Smentendola, evidentemente una fake news, una balla, una bugia evidentemente scritta da le giornaliste del Corriere della Sera. Anche il direttore Luciano Fontana dovrebbe aprire bocca, nel caso difende dicendo è tutto vero, esiste del materiale raccolto dai servizi su richiesta del COPASIR. E allora mente qualcuno all'interno dei servizi segreti, o mente il COPASIR, oppure mente il governo. Qui qualcuno sta dicendo una balla e però si tenta di insabbiare questo caso che giustamente Travaglio ha definito come una delle pagine più nere del giornalismo italiano, perché è bene no? Forse hanno pestato una merda e quindi è bene insabbiare. Infatti se ne parla sempre meno sui telegiornali, sui giornali, in televisione sempre meno. Le fake news, la rete contro le fake news. A proposito di fake news, io non mi devo arrabbiare troppo quando vado in televisione. Sono stato di martedì, mi sono un po' scaldato con Sallusti, perché oggi ora Sallusti fa il piacerrimo nemico del putinismo in Italia, abbandona le trasmissioni perché non dicono che il Cremlino sia un palazzo di morte, eccetera, eccetera. Fa quello antiputiniano, però poi quando Berlusconi dice queste frasi, glielo ho letta, l'Europa si deve mettere tutta insieme cercando di far accogliere dagli ucraini quelle che sono le domande di Putin. Tace, dice no, non sono d'accordo, però non è che si scaglia contro Berlusconi, figurati. Ma a proposito di fake news, poi tra l'altro Menzolini è pure una persona personalmente molto simpatica. Abbiamo anche, come dire, di tanto ci siamo scritti perché abbiamo fatti i parlamentari assieme, mi poteva domandare, mi poteva chiedere, perché ha pubblicato in prima pagina Nasce Forza Russia, da Petroceglia Santoro, da Orsini a Di Battista, i putiniani d'Italia, quindi mi ha inserito, lavorano a un movimento pacifista in vista del voto. C'è scritto che sto lavorando io, tra l'altro io leader, per questo partito Forza Russia, un movimento pacifista in vista del voto. Quindi chi legge Nasce Forza Russia pensa è nato Forza Russia questo partito in vista delle elezioni con Di Battista leader. Invece Intervisione ha detto no, 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 è una suggestione. Oggi le balle sono le suggestioni. Invece non è una suggestione, c'è qualcosa che dobbiamo capire meglio rispetto a quest'altro articolo gravissimo, influencer e opinionisti, ecco i putiniani d'Italia. Ripeto, il Presidente del Consiglio deve metterci la faccia, quantomeno per smentire quello che hanno scritto le giornaliste del Corriere della Sera, altrimenti il Corriere della Sera può andare avanti difendendo le giornaliste. Luciano Fontana facesse questo, ma dobbiamo capire che cosa è successo, perché dei liberi cittadini che non hanno preso ad oggi nemmeno soldi da Mosca, dai servizi segreti esteri, cosa che hanno fatto altri giornalisti, pensato a Giuliano Ferrara che veniva pagato dalla CIA, sono stati sbattuti sul Corriere della Sera come membri di una macchina che vuole influenzare organizzata l'opinione pubblica italiana, i putiniani d'Italia, e qua ognuno si rimpalla responsabilità, tutti dicono qui non c'entriamo niente e non si trova il colpevole o dell'eventuale dossieraggio o dell'eventuale balla scritta sul Corriere della Sera. Non è possibile, ripeto, in un Paese serio ci mettono la faccia il Presidente del Consiglio e anche il Presidente di Camera Senato a tutela del Copasir, se ritengono che il Copasir giustamente debba essere tutelato perché non ha minimamente portato avanti l'iniziativa di questo dossieraggio. Grazie a tutti e condividete, grazie per coloro che si stanno iscrivendo a questo canale, siamo oltre 70.000. Ciao, viva la libertà sempre, sempre e comunque andiamo avanti, non ci lasciamo intimorire da certi articoli che non hanno veramente senso. Ciao.